Buongiorno, io sono Alberto Passoni, sono coordinatore dell'Associazione Iridologica Italiana, la quale dal 1987 si occupa di iridologia clinica e di ricerca e di sviluppo dell'iridologia scientifica attraverso le medicine funzionali integrate. Qui con me è il nostro presidente, il dottor Angelo Santorelli, che è presidente dell'Associazione Iridologica Italiana e si occupa di tutto ciò che concerne lo sviluppo, la ricerca e la divulgazione. Salve, io sono il dottor Santorelli, sono un medico chirurgo, sono specializzato in otorinolaringoiatria, in chirurgia cervico-facciale e per cui rivolenza anche in chirurgia generale. Mi occupo da molto tempo di medicine funzionali integrate ed in particolar modo di semiotica microoftalmica che poi non è altro che l'iridologia clinica. L'iride è una struttura estremamente complessa con un alto indice di complessità che non è deputata soltanto alla visione ma soprattutto alla ricezione di una notevole quantità di informazioni che provengono dall'interno e quindi dalle cellule ma anche dall'ambiente esterno. Le informazioni giungono a livello dell'iride attraverso il network connettivale, attraverso il sistema vascolare, attraverso il sistema dell'arteria carotida interna, l'arteria oftalmica, le arterie ciliari, dal luogo alla costituzione attraverso le arterie ciliari, una grande, una media, una piccola circolazione dell'iride che va pedisticuamente ad irrorare per mezzo delle arterie radiali una notevole quantità di informazioni molecolari provenienti dall'ambiente biochimico interno. È chiaro ed è abbastanza palese che la legge dell'osservazione e soprattutto della semiotica microoftalmica in associazione con il test drive ci consente di far sì che una diagnosi di presunzione possa poi diventare una diagnosi di certezza. Grazie e arrivederci.